Tra smart working, applicazioni in cloud e videogame connessi aumentano le possibilità di attacchi informatici a imprese e cittadini. Secondo una ricerca della multinazionale della cyber security Fortinet, nella prima metà del 2021 gli attacchi ransomware sono decuplicati e le previsioni per il 2022 non sono certo rose. Massimo Palermo, country manager Italia e Malta di Fortinet. Quello che vediamo è un aumento delle minacce in conseguenza dell'aumento della superficie di attacco. Fenomeni come lo spostamento di applicazioni e transazioni sul cloud, il lavoro da remoto rendono la rete sempre più esposta e vulnerabile. L'Italia è una posizione di debolezza perché per scarsa cultura relativa alla cyber security e spesso anche per scarsa disponibilità di budget quindi c'è una minaccia sempre più crescente. Con i criminali informatici sempre più abili a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione attingendo anche all'intelligenza artificiale e al deep fake per arraginare i muri virtuali a protezione delle informazioni aziendali e personali. I cyber criminali sono sempre più industrializzati, si parla addirittura di ransomware as a service cioè creazione di un business model scalabile, replicabile che genera forti ricavi, stanno diventando sempre più sofisticati grazie anche all'utilizzo di artificial intelligence. Si pensi per esempio all'utilizzo dei deep fake che aveva fatto molta attenzione alla consapevolezza, alla preparazione e ai giusti comportamenti. Noi come Fortinet, uno dei leader mondiali nella cyber security, possiamo offrire soluzioni integrate, automatizzate ed ampie proprio per aiutare le aziende dalla più piccola piccola media impresa alla grande istituzione al grande ministero a costruire la propria resilienza significa a progettare e a realizzare il proprio processo di trasformazione digitale in assoluta sicurezza, proteggendo infrastrutture, reti, dati e persone.